benvenuti in questo video vi mostrerò come controllare lo stato di carica residua delle batterie alcaline le batterie alcaline hanno una tensione nominale di 1,5 volt noi considereremo una batteria completamente scarica quando la sua tensione sarà al di sotto di 1,3 volt tra 1,3 volte 1,5 volt la batteria sarà considerata considerare mezza carica o mezza scarica secondo come vi piace vederla al di sopra di 1,5 volt la batteria è completamente carica ricordate che però che le batterie nuove possono avere una tensione anche leggermente superiore a 1,5 volt potrebbero arrivare anche a 1,6 1,65 volt ok iniziamo a controllare queste quattro batterie il tester è impostato nella modalità di misura tensione continua che è quella indicata dalla v con le due lineette parallele 1,18 volt 1,08 quindi queste due sono scariche 1,567 carica e 1,502 è completamente carica grazie a tutti arrivederci al prossimo video